Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Oggi è una giornata di grande lutto per il giornalismo italiano. Ci lasciano due noti giornalisti, morti entrambi alla stessa età. È scomparso a Teramo, all'età di 87 anni, il decano dei giornalisti abruzzesi, Francisco De Lucia. Era nato a Giulianova nel 1935. Negli anni 50 fu corrispondente di Eco Riviera, Il Giornale d'Abruzzo e Momento Sera. L'altro giornalista che ci lascia oggi è Alfio Tofanelli, morto all'età di 87 anni. Alfio è stato un grande giornalista sportivo, molti hanno collaborato con la sua agenzia Tutto Calcio. La Valle del Serchio perde un pezzo di storia. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.